Dolce, soffice e golosa, la meringata Inizio a fare l'acquillì di fragole Taglio le fragole e le metto nel frullatore con un pochino di lamponi Spremo un po' di lime Aggiungo un po' di zucchero e metto a velocità massima Adesso faccio la crema Uova, zucchero, farina, latte e la frusta filo Quando diventa bella cremosa aggiungo un pochino di vaniglia Ed ora preparo la meringa Due albumi, zucchero a velocità 6 Faccio montare fino a quando gli albumi raddoppiano del loro volume Una volta che il composto è diventato bello spumoso, aziono la cottura Circa a 70 gradi per qualche minuto In piatto la parte che mi diverte di più Sul fondo l'acquillì di frutti rossi Due gocce di crema all'arancia Anche se non sono simmetriche, fa niente Una cannelle di meringa al centro del piatto Dei petali per colorare E una grattata di zest di lime La meringa è complicata da fare Ma con Cooking Chef Kenwood è un vero e proprio gioco da ragazzi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!